Penultima giornata di campagna elettorale a Padova in attesa del ballottaggio di domenica prossima. I due contendenti incontrano la stampa ma adottano strategie diverse. Se Ivorossi lancia alcune proposte per migliorare la qualità della vita degli anziani e delle giovani famiglie con figli, Massimo Bitonci torna ad attaccare sulle ricadute padovane della bufera veneziana. Per il senatore, dopo gli ultimi arresti, il project financing per il nuovo ospedale è morto e sepolto. È morto e sepolto, è morto e sepolto il project di Padova. È morto e sepolto perché gli ideatori di questo project sono stati arrestati e ci sono perquisizioni ancora in corso. Io penso che emergeranno tantissime altre questioni che sono state rilevate in questi giorni. Aggiungo a questo anche il fatto molto pesante che è stato arrestato anche quello che noi continuiamo a dire in questi giorni. È il consulente principale del comune di Padova, dello studio Giordano, che ha curato tutte le fusioni e tutte le attività di consulenza del comune negli ultimi anni. Ivorossi non raccoglie e preferisce non replicare. Al contrario, guarda oltre e parla della politica sociale a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Per questo, per favorire la socializzazione, abbiamo previsto di realizzare nuovi centri per anziani, cinque nei prossimi cinque anni, realizzando mille orti urbani, perché sono luoghi in cui si crea un tessuto di relazioni e uno vive in comunità, non perde le relazioni dopo aver abbandonato il lavoro. Così come la possibilità anche di viaggiare con mezzi pubblici anche al pomeriggio in una fascia oraria con un solo biglietto. Mentre si apprende che Matteo Renzi, dopo lo scandalo veneziano, non verrà a Padova, i due candidati si apprestano a fare domani le loro ultime mosse. Nel comizio di chiusura della campagna, Ivorossi avrà al suo fianco alle 19 in Piazza delle Erbe, Deborah Serracchiani. Massimo Bitonci terrà il suo comizio conclusivo sempre alle 19 in Prato della Valle. Alle 18 invece, tanti flash mob dei suoi simpatizzanti in giro per la città.